buongiorno ragazzi ed eccoci con ancora altro video altro chenlook anche per oggi cosa andiamo a fare oggi chenlook numero 8 ok chenlook numero 8 è solo di gambe ok solo calcio un po come abbiamo fatto nel numero 4 anche nel chenlook numero 8 si eseguono soltanto tecniche di calcio allora posizione di guardia come al solito d'intera sinistro ci si mette bene in posizione e cosa fa si parte con la gamba destra si esegue una spazzata quindi praticamente è un calcio basso a spazzare con la gamba destra si spazza si richiama la gamba perché spazza solleva porta via quindi la gamba che c'è in appoggio all'avversario di fronte a noi e calcia immediatamente con la stessa gamba di destro con il dad up ok senza riappoggiare il piede quindi spazzo di destro subito dad up destro e immediatamente dad up sinistro e termina la tecnica quindi ripetiamo così seguiamo anche il video sempre che scorre qua accanto a me allora posizione di guardia spazzata con la gamba destra richiamo immediatamente dad up deve essere una tecnica abbastanza rapida appoggio dad up sinistro bene tecnica completata molto rapida divertente per allenare i calci provatela perché questa qua secondo me vi darà grandi soddisfazioni ciao buon video ci vediamo in un'altra domanda